674 posti in più rispetto allo scorso anno per gli insegnanti di sostegno in Sicilia. Che ci fossero delle speranze maggiori per i professori che danno supporto agli studenti diversamente abili di non fare le valigie e poter rimanere nella propria terra, si sapeva da tempo. Ma oggi abbiamo i dati. In tutta l'isola i posti disponibili sono 4.606, di cui 300 in provincia d'Agrigento, a fronte di un aumento di 1.314 lunni problematici nelle classi siciliane. Verrà pubblicato oggi sul sito www.usr.sicilia.it lo schema di dichiarazione di disponibilità da presentare al provveditorato entro il 30 agosto. Anche se questi insegnanti non hanno alcuna specializzazione per lavorare nelle classi a supporto degli studenti con disabilità, possono avere una chance importante e rimanere in Sicilia. Perché i posti ci sono, molti più dello scorso anno, mentre i docenti specializzati scarseggiano e, come forse più degli altri anni, riusciranno a coprire appena la metà delle cattedre date in deroga dal Ministero. Per coprire il ruolo di insegnante di sostegno non serve obbligatoriamente, infatti, un'apposita specializzazione. Naturalmente, chiariscono dall'ufficio scolastico regionale, prima sarà scelto il personale più qualificato e solo in seguito coloro i quali hanno un curriculum più breve. Secondo una prima stima, saranno circa 2.000 docenti non specializzati che quest'anno troveranno lavoro. Sarà un vantaggio sia per chi sta tentando in questi anni di avvicinarsi al mondo dell'insegnamento, sia per chi era stato trasferito fuori dalla propria regione e vorrebbe ritornarci.